L'indagine R.S. Ecclesie, avviata dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Cagliari, si allarga anche alla nostra regione. Una delle otto misure cautelari prese nei confronti della banda di falsari è stata infatti notificata a Pravis Domini. L'organizzazione criminale, radicata nella zona di Oristano, restaurava abusivamente beni ecclesiastici, commettendo truffe e distorsioni a danno di sacerdoti, sia in Sardegna sia in altri luoghi della penisola. L'operazione è stata condotta in sinergia con i comandi provinciali dei carabinieri di Pordenone, Bergamo, Varese, Brescia e Roma, con il supporto del secondo nucleo elicotteri di Orio al Serio. È stato anche eseguito il sequestro preventivo di una serie di beni, tra cui un terreno edificabile ubicato da Zano X e di tutti i conti correnti delle polizze di pegno intestati agli indagati. I carabinieri del nucleo TPC hanno ricostruito l'attività illecita, riconducibile a 13 ROM appartenenti a 5 famiglie. Attraverso otto mezzi, schede e telefoni, falsa modulistica e un locale dotato di strumentazione per i trattamenti galvanici, i consociati simulavano l'attività di una solida e strutturata azienda di restauro. Dal 2015 si sarebbero verificati oltre 100 episodi, con un modus operandi consolidato. Accreditandosi come esperti restauratori, convincevano i religiosi a consegnare beni ecclesiastici, per lo più argenti, per effettuare interventi di ripulitura o restauro, concordando prezzi estremamente competitivi. Ma prima della riconsegna, i malviventi richiedevano il pagamento di una somma molto più alta. Se i parroci esprimevano perplessità o si rifiutavano di pagare, i falsi restauratori li minacciavano di non restituire i beni e di informare la curia o la sovrintendenza della consegna per il restauro di beni culturali tutelati. L'importo economico estorto è stato quantificato in diverse centinaia di migliaia di euro. Quattro dei destinatari della misura cautelare sono peraltro risultati beneficiari dal reddito di cittadinanza.